Rischiano di restare nel libro dei sogni i 67 progetti presentati a fronte del recovery plan da parte della regione molise, 3 miliardi di euro che potrebbero restare solo sulla carta. A sollevare i dubbi è la CGL che già in passato si era misurata sul tema nel corso di un convegno. Il limite critico della programmazione regionale è la mancanza di uno studio di fattibilità delle opere che invece nel termine di 60 mesi devono essere avviate, ci dice il segretario regionale della CGL Abruzzo e Molise Franco Spina. Si tratta di uno strumento straordinario quello del recovery plan che noi non possiamo mancare e invece chiaramente di presentare 67 progetti con una logica che è esclusivamente quella di recuperare quello che c'è e di provare a ottenere qualche finanziamento bisogna intervenire seriamente perché le criticità sono nei tempi, nei modi, nelle forme di approvazione di questi progetti. Deve essere chiaro che entro 60 mesi bisogna aver concluso tutte le opere. Qui ci sono progetti che ancora devono fare lo studio di fattibilità quindi dobbiamo capirci se vogliamo fare sul serio e rendere operative e superare qualche criticità territoriale a partire dall'infrastruttura bisogna avere progetti o già operativi e quindi che vanno completamente o opere che sono immediatamente canterizzabili. Necessario in un quadro di criticità è fare squadra con le altre regioni limitrofe e specie con quelle del sud Italia. Assolutamente sì, Molise da solo non va da nessuna parte, nemmeno le altre regioni da solo vanno da nessuna parte. C'è bisogno di fare squadra, c'è bisogno di porre il tema del mezzogiorno, c'è bisogno di ottenere i finanziamenti proporzionati a quelli che sono il PIL delle regioni quindi più risorse per le regioni che sono più indietro quindi mezzogiorno ma c'è bisogno di un'idea complessiva ecco perché il Molise si deve agganciare in un'idea vera di sviluppo del mezzogiorno e non a microprogetti che possono e debbono essere finanziati anche con gli strumenti ordinari. Dal sindacato arriva anche una forte preoccupazione per gli effetti della crisi di governo in corso. È una iattura per tutti ma ovviamente poi la politica è sempre un po' così curiosa a volte nel momento peggiore sia in termini diciamo sanitari che in termini economici e sociali c'è questa crisi del tutto inspiegabile ci auguriamo che si risolva nel più breve tempo possibile poi sta al presidente sta ovviamente a chi siede in Parlamento trovare una soluzione ma non possiamo permetterci di perdere tempo perché le risorse sono uniche la straordinarietà è unica e come Italia siamo partiti per prima rischiamo di arrivare per ultimi.